Una scomparsa misteriosa che ha messo in apprensione l'intera città. Ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Paolo Ballarin che sembra svanito nel nulla. Una soprano costantemente sopra il rigo. Tu mi dai un'unica certezza che il diavolo non esiste. Suo padre diceva di essere... Un coraggioso giornalista, perplesso di fronte alle verità che riesce a scoprire. Quando si fa, si riconosce. Le indagini della polizia inadeguata alla complessità del caso. Faremo così, signore. Siete indoviniti da un bacio. Due giovani adolescenti trascinati in un gioco più grande di loro. Perché adesso c'è un perché? Una vita insopportabile dalla quale fuggire. O te ne vai o mi racconti tutto. Il tutto avvolto dalle nebbie fumose dell'esoterismo. Lasciamo parlare le carte e noi stiamo zitti. E una moglie esasperata dagli reti. La dogaressa. La dogaressa. Il nuovo film di Piero Fontana ed Enrico Mengotti.